Con 27 milioni di persone impiegate e circa il 10% del PIL dell'Unione Europea, il turismo è uno dei settori più penalizzati dalla pandemia. Ma con le rigide misure di blocco che cominciano ad allentarsi in tutta Europa, l'industria dell'accoglienza è pronta a ripartire. Per rendere i viaggi di piacere più sicuri e sostenibili, la strategia europea poggia sul certificato verde digitale un carnet di informazioni su vaccinazione, test anti-covid, guarigioni. Siamo incoraggiati dal fatto che i recenti sviluppi sono positivi e vediamo questo come un buon contributo alla graduale ripresa economica. Ma non tutti i paesi sono disposti ad aspettare la scadenza di metà giugno per il lancio del certificato vaccinale. Il governo italiano ha annunciato che da questo fine settimana il paese potrà riaccogliere i turisti purché abbiano un pass verde nazionale. Sul lago di Garda, dove 8 persone su 10 vivono di turismo, la notizia è stata accolta con favore. Siamo tutti sulla stessa barca in questo momento, è come se in una gara di Formula 1 ci fosse stato un incidente, siamo tutti con la safety car lì pronti a ripartire. Ebbene, la mia situazione personale qual è? E' buono, cercare di riprendere a lavorare e produrre reddito prima possibile. Oggi abbiamo un'opportunità veramente rara, è importante coglierla. Non credo che rispetto a questo momento storico avremo una seconda chance, quindi dovremmo essere molto bravi a ripartire da qua. Intanto la Grecia sta lottando per rianimare il suo settore turistico. Il governo ha annunciato un'accelerazione al programma di vaccinazione per i residenti delle sue isole, self-test gratuiti, apertura delle frontiere in vista dell'inizio della stagione. L'obiettivo è quello di garantire alle isole lo status Covid-free. Stimiamo che entro metà giugno la maggior parte dei residenti sarà vaccinata e questo renderà l'isola una destinazione turistica sicura. Anche la Spagna si muove. Il paese spera di contenere il calo di attività che l'anno scorso, nei mesi tra luglio e settembre, aveva registrato il 79% dei visitatori in meno rispetto al 2019. Grandi speranze per il rilancio del comparto sono dunque riposte nel certificato verde europeo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.